Benvenuti in questo nuovo video Non vedo l'ora Buon anno a tutti Non vedo l'ora Sono stra emozionata Andiamo Ate Mi fai video? Così? Sta morendo mia cugina No, non ti prego, non morire È così? Aiutami Buon anno a tutti Che bello Ma ragazzi Vabbè un pezzettino di vlog Lo sto registrando Madonna Però comunque Questo anno Vabbè Questo anno purtroppo va via Goodbye 2017 Cioè Ciao Addio 2017 E via col 2018 Aspetta 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 Dammi Dove sei? Così che faccio il video? Così Ok Ragazze Non vedo l'ora E perché Ecco I petardi Che scopri C'è mia cugina che parla Perfetto Perfetto Sto parlando Ma Ecco i petardi Madonna Mi sono staventando Un sacco ragazzi Buon 2017 18 a tutti Scusatemi Madonna Ragazzi Spero che voi Stiate bene E nulla Buon 2018 Non vedo l'ora Di saltellare E Ecco Il capodanno Che sta iniziando Vida folle Aspetta Aspetta Permesso 1 2 3 No 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 Sei impazzito Eccolo No ma non urlare Sta parlando No Non puoi Sei solo ubriaco No No Niente Sto facendo Sto facendo Sto facendo il video Non mi diste Adesso sono già le 5 Ma che le 5 Alle 12 Alle 12 Sono alle 12 Buon 2018 a tutti Aiuto Sto amore Sto amore Ma sono già qui Sto facendo Anche tu vuole No non vuole Stai parlando con qualcuno Sto amore Sto a che la riprendo Sto a che la riprendo No meglio di no Buon 2018 Si ci sono i petardi che scoppiano No vai Vai prima tu Oddio sono emozionato Ragazzi Questa acqua Questo Farà anche Uscirà anche il video In cui mangeremo E spero che questo video Vi sia piaciuto Mettete un bel like E iscrivetevi al mio canale Buon 2018 a tutti Ciao 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 Ciao